ci colleghiamo con giovanna boria ambasciatrice della dieta mediterranea per parlare dell'ennesimo riconoscimento che l'è stato conferito dal crea innanzitutto ben trovata giovanna come stai ben trovata raffaella e cilento channel e tutti gli amici che ci seguono so a corbella vedi sto nella natura è incontaminata parliamo di questo riconoscimento bello che tra l'altro è avvenuto pochi giorni fa sei ufficialmente custode del cece di cicerale dopo 22 anni hai acquisito un titolo importante anche se lo eri già prima però adesso hai un riconoscimento effettivo allora infatti quando è venuta la dottoressa rosa pepe del crea per fare l'impianto del cece del fagiolo di castella battle quello striato mi hanno dato di tutti e due diciamo come custodi di entrambi legumi e quindi a dire quasi non ci credevo perché dico dio dopo tanti anni quasi non lo speravo più e quindi nel momento in cui stavamo piantando questi ceci raccontavo con lei ma veramente lo stiamo facendo una bella cosa che la regione campania infatti stiamo facendo questo campo sperimentale per seguire io naturalmente continuo a mettere i ceci come l'ho sempre messo quelli che mi avevano dati i miei genitori e che da 22 anni porto avanti però adesso invece è un progetto che ci seguono nel senso che ogni 10 15 giorni vengono a vedere questo campo sperimentale che abbiamo fatto che richiede se visto che il cece è così semplice sotto certi aspetti perché non ha bisogno di concimazione non ha bisogno di troppa acqua infatti come sai difende anche l'ambiente quindi non è che sfrutta con concimi acqua in modo tremendo come le altre cose e quindi ci seguiranno per tutta la raccolta fino alla raccolta e faremo questa bella esperienza naturalmente certo che sono felice infatti l'ho postato su facebook e ed è stato bello perché una marea di amici di di gente che già mi conosce che sa quello che ho fatto per questo territorio è stato felice con me era giusto condividerlo con tutti voi e voi tu e gianni siete quelli che mi avete sempre sostenuto e quindi con voi se tu mi hai beccato tu però nel senso mi hai chiamato tu però ecco sono cose che a volte vorrei condividere veramente nell'intimo perché sono cose veramente belle le persone che hanno creduto in me è giusto che camminino a braccetto con me lo meriti e si vede dagli occhi la tua emozione che sprigionano insomma felicità felicità pura per tanto lavoro ecco che è stato fatto da te in questi lunghi 22 anni ed è giusto questo riconoscimento per te stessa ma anche per cicerale e per il cilento intero un orgoglio insomma per chi insomma poi verrà cicerale a degustare presso il tuo agriturismo corbella questa bontà insomma che poi è il protagonista di tantissimi piatti che cucini giovanna restiamo a corbella il sindaco gerardo antelmo qualche settimana fa attraverso un'intervista ai nostri microfoni ecco ci ha dato una bella notizia eh per quanto riguarda eh la strada che porta appunto a questa bellissima valle che poi è la porta del parco nazionale del cilento vallo di diano ed alburni non sappiamo ancora quando eh inizieranno i lavori però ci ha dato eh buone notizie eh per quanto riguarda i finanziamenti che dovrebbero arrivare eh per sistemare finalmente questa strada che poi tra l'altro è una strada molto molto lunga. Allora Raffaella sì quella comunale sono sui sei chilometri più o meno poi c'è il pezzo che mi dovrebbe collegare alla diga che da vent'anni è stato è rimasto in quelle condizioni e dovrebbero rinunciare i lavori. Naturalmente il sindaco poi che mi collega a questo pezzetto è naturale che per me eh eh smetto di soffrire perché veramente per tutti questi anni ho sofferto in maniera eh tremenda perché e adesso va e piove e ci sono le le pozzanghere chi ha paura che rompe la 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 coppa e chi la ruota e chi quindi diciamo che sono stata penalizzata esageratamente. Il sindaco mi ha mi ha dato buone speranze naturalmente ci vogliono un paio d'anni ma sono passati ventidue anni passeranno pure due anni e quindi lo spero. Io onestamente fino a che non vedo la strada non ci credo però eh essendo un amico Gerardo eh mi mi voglio fidare eh anzi mi fido di lui e spero che veramente questa valle finalmente può essere di accesso alle persone che amano la natura e che amano la cucina della dieta mediterranea che io da sempre faccio. Quindi poi speriamo che arriverà. Chissà che dopo questo bel riconoscimento insomma di custode del cece di Cicerale non possa arrivare un altro riconoscimento in termini di viabilità per questo territorio e quindi ripristinare appunto questa importante strada eh che eh porta in questa valle bellissima dove poi c'è il tuo agriturismo. Eh un agriturismo è un lavoro quello di Giovanna Voria che è stato attenzionato da tanti eh anche eh per quanto riguarda le emittenti televisive non solo locali ma anche nazionali e tra l'altro infatti in questi giorni eh insomma abbiamo saputo che c'è l'attenzione di Gheo in Gheo che sta proprio girando un documentario lì eh da te Giovanna. Sì abbiamo fatto la prima ripresa della semina eh giovedì scorso e loro era quasi un anno che volevano fare questo documentario però naturalmente un po' il covid un po' la stagione e cose varie quindi eh hanno dovuto aspettare e quindi veramente sono stati pazienti. Abbiamo iniziato con la semina adesso verranno quando inizieremo a zappettare quindi quando si toglierà l'erba proprio come il rito antico di una volta e poi verranno quando faremo la raccolta naturalmente poi mentre monteranno e faranno il tutto passerà un po' di tempo però è un bel lavoro è quel documentario che fanno alle sei il pomeriggio che è molto bello eh di Gheo tu sai che Gheo fa belle cose veramente belle cose con lui con loro abbiamo fatto già almeno una decina di cose interessanti tra questi poi oltre alle alle ricette o agli interventi normali abbiamo fatto di padre inviglio una bella storia sempre legata al cece che diciamo ha passato mio padre e i miei genitori hanno passato l'eredità a me del di questo famoso cece e poi abbiamo fatto di tre grotti e tre fiumi quindi Castelci vita Pertosa e Morigerati anche lì è stata una bella esperienza e quindi questa del cece sarà sicuramente coinvolgerò sicuramente tutti gli altri produttori del cece eh insieme alla nostra associazione ciceralit perché è giusto che chi lavora e ci ha creduto abbia visibilità e quindi io faccio da traino però gli altri li dobbiamo portare con noi è naturale infatti sei stata sempre ecco il punto di forza del tuo territorio perché come abbiamo detto anche in apertura c'è sempre creduto continuo a crederci nonostante le difficoltà soprattutto del momento tu sai bene che io a quante ne passo poi alla fine sono sempre oltre che combattiva speranzosa perché naturalmente ci credi in quello che hai fatto altrimenti non non lavoravi in questo con questo ritmo e con questi sacrifici quindi io se sono qua mi diceva mio marito ma perché riapri Corbella lascia perdere con tutti questi problemi oramai che vuoi aprire più e io ho detto no vabbè la speranza è l'ultima a morire quindi per ora cerchiamo di difenderci dal covid e quindi stiamo attenti e poi vedremo tutte le altre cose piano piano è naturale che tu se credi e ami quello che stai facendo Raffaele trovi sempre il modo come uscirtene e come riuscire a farcela grazie per quello che fai per il territorio per Corbella e Cilento Channel è sempre vicino a tutti noi grazie grazie a te per quello che fai tu per la nostra terra e per portare in alto soprattutto il nome del Cilento grazie Giovanna